Ospitalità, responsabilità e comunità sono questi tre principi fondamentali del modello Scuola Senza Zaino, adottato dallo scorso mese di settembre per la prima volta nella provincia di Forlicesena dall'Istituto Comprensivo Statale di Sogliano a Rubicone e nello specifico dai circa 70 studenti della Scuola Primaria Mariani di Roncofreddo. Si cerca di lavorare su attività interdisciplinari che coinvolgano più ambiti e più discipline contemporaneamente, si va a lavorare sulla globalità della persona, quindi sviluppare i saperi ma anche il saper fare e contemporaneamente lo stare insieme, il vivere con gli altri. Un modello che vede non solo l'eliminazione dello zaino ma anche una rivisitazione degli spazi scolastici convenzionali trasformandoli in ambienti dinamici che stimolano la socialità e la condivisione. Nato in Toscana nel 2002, Scuola Senza Zaino si ispira anche ad altri modelli didattici rinomati. Tutto il metodo Montessori, Dewey, Brunner e quindi tutto quello che è il costruttivismo sociale. Quindi si lavora, si parte dal presupposto che l'apprendimento passa attraverso la relazione con gli altri e passa attraverso un percorso costruttivo che porta l'alunno soprattutto al fare. In questo senso è che si abbandona la lezione frontale e si cerca di lasciare sempre più spazio a iniziative laboratoriali e soprattutto al fare da soli. Grazie. Grazie.